Rapunzel, l'intreccio della torre Ogni mattina la vecchia madre Gotel accarezza i petali dorati di un fiore molto speciale e come per magia torna giovane e bella. Un giorno il fiore viene colto per curare una regina malata. Grazie alla magia dei petali la regina guarisce ed ha alla luce una bimba dai capelli d'oro, Rapunzel. I poteri del fiore ora sono racchiusi nei capelli di Rapunzel ma madre Gotel li rivuole per sé, così porta via la bimba dal castello. Rapunzel cresce in una torre nascosta nel bosco, tutti i giorni cala dalla finestra i suoi lunghi capelli e aiuta madre Gotel a salire. Rapunzel ha un solo sogno, ammirare da vicino le luci che brillano nel cielo una volta all'anno, proprio la sera del suo compleanno. Ma madre Gotel non vuole che la ragazza lasci la torre, così la spaventa. Non puoi uscire, il mondo è troppo pericoloso per te. Intanto il ladro Flynn Rider ha rubato una corona e per sfuggire alle guardie decide di nascondersi proprio nella torre di Rapunzel. Rapunzel spaventata lo lega a una sedia con i suoi capelli, poi gli prende la borsa e lo minaccia. La riavrai soltanto se mi accompagnerai a vedere le luci. Le luci sono lanterne che vengono accese ogni anno per ricordare la nascita della principessa rapita, spiega Flynn. Poi aiuta Rapunzel a scendere. Fuori dalla torre Rapunzel è felice. Flynn è gentile e il mondo non sembra affatto pericoloso, come le dice sempre madre Gotel. Lungo la strada i due si fermano a riposare in una taverna piena di furfanti. Rapunzel li trova simpatici e inizia a cantare, facendosi gli amici. Poco dopo arriva Maximus, è il cavallo di una delle guardie, ed ha la caccia a Flynn. Madre Gotel invece sta cercando Rapunzel, vuole riportarla nella torre. Ma i due ragazzi fuggono da una botola. Una volta al sicuro Rapunzel spiega a Flynn il segreto dei suoi capelli. Se venissero tagliati, la magia svanirebbe. Il mattino dopo Rapunzel e Flynn entrano nel regno. La gente è allegra e alcune bimbe intrecciano le lunghe ciocche della ragazza. A un tratto Rapunzel scopre un mosaico in cui si vedono il re, la regina e la principessina. La bimba ha i capelli d'oro, proprio come i suoi. Poi finalmente Flynn porta Rapunzel a vedere le lanterne. Guardando quello spettacolo così romantico, i due ragazzi capiscono di essersi innamorati. Poco dopo però, madre Gotel li trova e allontana Flynn con un inganno. Ti ha abbandonata, dice Rapunzel abbracciandola. Rapunzel torna alla torre ma continua a ripensare al mosaico e alle lanterne. Improvvisamente capisce tutto. È lei la principessa e madre Gotel l'ha rapita. Intanto Flynn si accorge dell'inganno di madre Gotel e corre alla torre. Rapunzel è felice di rivederlo e lo aiuta a salire. Senza spiegare nulla, Flynn le taglia i capelli. Di colpo la loro magia svanisce e madre Gotel invecchia fino a scomparire. Rapunzel allora è libera e Flynn la porta al castello. Grazie a lui il re e la regina possono riabbracciare la loro amata figlia e il regno riavrà la sua principessa. Fine